Amici contro, Michele Pazienza e Valerio Bertotto saranno domenica uno di fronte all'altro, da compagni di squadra d'Udine ad avversari sulle panchine di Avellino e Giuliano. Il tecnico Sanzavera e il trainer torinese hanno giocato in Friuli insieme dal 2003 al 2005, quando Pazienza era un abile metronomo a centrocampo e il piemontese terzino e capitano di quello udinese, di cui è anche il secondo calciatore per numero di presenze nella storia. Il tecnico Dele Grotti, in una docente intervista, aveva sottolineato come l'attuale allenatore dei Lupi ami fare le cose per bene. Entrambi subentrati a Massimo Nastelli e Raffaele Di Napoli hanno ripreso le sorti dei due club. Insieme nell'esperienza friulana hanno conquistato un settimo posto e un quarto posto con relativo accesso alla Coppa Campioni, sotto la guida dell'attuale CT Azzurro Luciano Spalletti. Per Pazienza tra Campionato e Coppa, 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con una media di 2,46 e 2,36 sull'incampionato, dove è il secondo migliore attacco con 21 ritisiglate e la seconda difesa meno perforata, 7 gol, di cui 3 però per i Lupi sono arrivati nell'era Rastelli. Per Vertotto con i gialloblu, 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte sulle due competizioni. È una media di 1,56 che ha tirato i Tigrotti fuori dalla zona a rischio, portandoli ad un solo punto dall'ultimo posto playoff occupato in questo momento dal Potenza. Una sfida piena di Amarcord, quella di domenica, ma quando ci sarà da battagliare in 90 minuti, i ricordi dovranno essere alle spalle.